ciao ragazzi buon capodanno buon inizio anno nuovo buon 2023 e voglio essere molto corto in questo video per ringraziare voi clienti amici che tutti i giorni sempre di più siete sempre più numerosi la cosa mi fa un enorme piacere perché vuol dire che apprezzate il mio lavoro ed è una cosa che per chi fa la mia professione è una cosa molto importante credo in quello che faccio ci metto tutta la mia professionalità in quello che faccio e questo viene rispecchiato nei miei prodotti a loro volta sui vostri campi di gioco quindi la cosa mi riempie veramente di grande orgoglio perché oltretutto sto avendo anche contatti dall'estero perché vengono posso poter fare repliche anche che vadano all'estero già sono andate all'estero e la cosa mi rende veramente molto felice quindi si cerca di lavorare sempre al meglio accontentando tutti e dunque cos'altro dire abbiamo concluso l'anno con un mp7 no con un arp 556 l mp7 è sul banco in lavorazione ho già dei chris vector prenotati sono devo iniziare il numero 17 ho già prenotato fino al 19 chissà chi sarà il numero 20 e vi ricordo anche il 7 gennaio l'estrazione per la vincita del full custom quindi ci sarà l'estrazione con la partecipazione di rico riccardo luppi conoscete tutti chiarico non ha bisogno di presentazioni e che tra l'altro ringrazio per la partecipazione e poi ci saranno tante altre novità e ci sarà anche l'apertura di un sito del sito tutto jaul e poi piano piano vedrò di elencarvi le cose nel corso nel corso dell'anno nel frattempo ragazzi grazie grazie di vero cuore e di nuovo un buon 2023 ciao